E per introdurre il nostro prossimo ospite con cui parleremo di sport e attività fisica vediamo per la nostra rubrica Rewind, un servizio dalle nostre tech del 2006 in cui si presenta l'iniziativa ginnastica nei parchi promossa dalla WISP. Questo periodo estivo quando è tanto caldo paradossalmente si sta benissimo dopo. Si fa una doccia e si inizia con grande energia. Parco dei Cedri, ore 9 del mattino, non è ancora troppo caldo anche se il sole si fa già sentire. Sono in una sessantina a seguire le indicazioni dell'istutrice del WISP. Facciamo un tipo di attività dove non sono previste contraindicazioni particolari e quindi dove si possono muovere liberamente senza avere traumi. Un'ora piena di esercizi, in piedi, a terra, camminando, è la ginnastica nei parchi che il WISP organizza gratuitamente da 8 anni con crescente successo. Sono 27 i parchi interessati, 14 a Bologna, 13 in provincia, con la collaborazione degli enti locali, delle poli sportive e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Da giugno a settembre ci si ritrova ad orari precisi, al mattino o nel tardo pomeriggio. Oggi vi ha dato una bella torchiatina? Beh, quasi sempre, tutte le volte al mattino è così. Ma aiuta, aiuta a mettere a posto l'energia per tutta la giornata. Un bel modo per sfruttare e rispettare i parchi pubblici con un'attività fisica che soprattutto nella terza età significa prevenzione ed aggregazione sociale. Benvenuto al nostro ospite Enrico Balestra, presidente regionale WISP Unione Italiana Sport per tutti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Ecco, quello che abbiamo visto è una delle tante iniziative che vengono organizzate alla WISP che gestisce anche piscine, palestre e permette a tantissimi di praticare uno sport, un'attività fisica. E la vostra attività invece è proprio a rischio per effetto del caro energia legato alla crisi internazionale. Che cosa sta succedendo? Beh, intanto il video che avete appena mostrato è di grandissima attualità perché questo è quello che la WISP ha fatto da molti anni e non abbiamo ancora metabolizzato quello che è successo con la pandemia ed è arrivato un nuovo nodo diciamo globale che interessa e impatta anche il mondo sportivo. Noi raccontiamo tutti i giorni che lo sport non è un mondo a parte e esattamente come capita alle famiglie, a tutte le imprese anche le intraprese sportive, chi gestisce dal piccolo campo di calcetto fino al circolo di frazione o alla grande piscina ha problemi enormi di sostenibilità a questo punto proprio aritmetici. Sappiamo che l'energia è aumentata di circa tre volte, almeno tre volte e il gas ad oggi di sette volte. E che a voi serve per esempio per riscaldare le piscine, consumano tantissima energia e non solo, no? Assolutamente sì, il fatto che il nostro ente, ma come altri, si occupi di sport per tutti quindi anche per anziani e bambini significa che una delle richieste dei cittadini, delle persone in particolare quelle un po' più sedentari che si avvicinano al movimento sportivo è quello di avere spazi confortevoli quindi riscaldati o comunque appunto puliti e tutto questo ha dei costi enormi. Energetici. Quindi per evitare addirittura che si chiudano questi importanti impianti che cosa secondo voi si dovrebbe fare, che cosa chiedete? La discussione nel mondo sportivo è né più né meno di quella che sta capitando nel paese su altri segmenti industriali e aziendali più importanti e ha tante contraddizioni. La prima è che la dimensione del problema di cui si sta parlando potrebbe non avere una risposta aritmetica cioè ci rendiamo conto che è un problema talmente grosso da porre anche qualche interrogativo morale quindi come si parlava prima nell'altro servizio di ordinare le priorità e stabilire cosa serve. In questo senso pensiamo serva grande responsabilità nel distinguere un momento contingente in cui anche allo sport che non deve essere dimenticato servono sostegni aiuti dico questo perché spesso nelle righe dei decreti ci si dimentica dello sport lo si dà per scontato e questo non deve capitare poi invece c'è un tema più generale cioè come ripensiamo un modello noi della WISP vorremmo si parlasse apertamente di transizione sportiva come si parla di transizione energetica digitale o ambientale perché il nostro sistema nato con la Costituzione che ha molti anni esigerebbe di essere pesantemente manutenute perché oggi c'è un tema di adeguatezza oltre che di sostenibilità e come tutti noi non accenderemo la macchina se non è a posto non ci metteremo in viaggio per un lungo viaggio, una lunga transizione se il sistema, il motore non funzionasse alla perfezione oggi abbiamo bisogno dei giustamenti. In conclusione ricordiamo che cosa fa WISP cioè l'abbiamo visto, ne ha ricordato l'attualità, la ginnastica nei parchi quante persone praticano sport grazie a voi quindi quante persone praticano sport in Emilia Romagna? Per noi l'anno sportivo comincia a settembre quindi oggi se non ci fosse il nodo energia dopo la tempesta Covid saremo qua a fotografare numeri che sono sostanzialmente quelli precedenti al Covid la WISP da sola contava oltre 300.000 soci prima del Covid se non ci fossero appunto queste incognite la sensazione ma davvero anche i dati indicativi quelli marginali di alcune mensilità e dell'estate dimostrerebbero che saremo già tornati ai tempi pre-Covid ovviamente su questo gravano incognite importanti i numeri sono appunto quelli della WISP ma anche la regione Emilia Romagna presenterà nelle prossime settimane un osservatorio, uno studio fatto sui numeri dello sport in Emilia Romagna che sono numeri importanti chiuso solo dicendole che quando si parla di sport c'è sport e sport c'è quello che riguarda magari 11 giocatori in campo per una partita di calcio c'è quello che riguarda almeno un terzo degli cittadini dell'Emilia Romagna e quindi una moltitudine di persone che non hanno lo stesso problema veramente per tutti, popolare grazie Enrico Balessa, Presidente del giornale WISP per essere stato con noi grazie grazie Grazie.